ragazzi ragazzi non ci sono parole non ci sono anzi giri di parole parliamo di Claudio Ranieri un uomo che rappresenta la massima incoerenza nel mondo del calcio ragazzi sì un allenatore che nonostante i suoi continui fallimenti fallimenti è sempre pronto a indossare la maschera del salvatore ma dietro quella facciata quella facciata si nasconde una carriera di errori fallimenti e decisioni che era sento nel ridicolo più assoluto siete pronti a conoscere la verità ragazzi bene mettetevi comodi in questo bel video perché oggi non facciamo sconti a nessuno ragazzi allora parliamo di Claudio Ranieri il nuovo allenatore della Roma allora sono stato poco bene in questi giorni quindi non ho fatto il video in immediato allora parliamo del re parliamo appunto del re dei fallimenti in linea generale iniziamo con i fatti e non con opinioni Ranieri diciamo ha fallito clamorosamente alla Juventus nel 2007 2008 era una squadra che avrebbe potuto vincere lo scudetto a mani basse ma sotto la sua guida è stata una delusione totale l'anno successivo ancora peggio si è fatto esonerare dopo una serie di sconfitte imbarazzanti questa è una realtà che nessuno può negare ovviamente poi c'è la Roma nel 2010 sembrava che potesse portare a qualcosa di concreto invece nulla di fatto un altro capitolo di promesse non mantenute e di tifosi lasciati con il non amaro con il super amaro in bocca ebbene sì lo stesso copione poi si è ripetuto con l'inter nel 2011 2012 un'esperienza da dimenticare che ha mostrato la sua incompetenza e incapacità di gestire grandi squadre sotto pressione la Sampdoria e il miracolo del Cagliari allora la Sampdoria nel 2019 2020 altra occasione sprecata un'altra squadra lasciata nel caos parliamo poi del miracolo del Cagliari nel 2023 ma per favore non scherziamo non è stato un miracolo ma una serie di circostanze fortunate promozione all'ultimo posto disponibile praticamente al quinto posto una sorta di ripescaggio in serie B eh sì eh sì dovremo celebrare questo come grande successo io direi personalmente di no si chiama fortuna questa e non abilità abilità che c'è ad esempio Conte, Inzaki, Sarri sotto alcuni aspetti in misura molto 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 piccola Garzia di Francesco questi sono allenatori che hanno abilità chi più chi meno ma non Ranieri Ranieri c'è avrà collezionato almeno una decina di esoneri nel corso della sua carriera esoneri più alte più dimissioni situazioni dove è subentrato esonerato subito eccetera parliamo poi del fallimento al Watford il Watford e l'eterna mediocrità prende una parentesi che nessuno ricorda con piacere e giustamente non ha lasciato un segno non ha portato alcun valore aggiunto una carriera piena di occasioni sprecate di risultati ben al di sotto delle aspettative questo è Claudio Ranieri un allenatore che non riesce mai a fare quel passo necessario è un allenatore da serie B massimo al quindicesimo posto della serie A forse forse ha portato uno o due squadre in retrocessione nella sua carriera una sicura forse anche due le dimissioni farsa ragazzi ora veniamo al punto più incoerente della sua carriera si dimette dal Cagliari con tanto di discorso allo stadio lacrime e ringraziamenti facendo chiedere a tutti che fosse un addio definitivo un uomo che lascia la scena con dignità e poi al primo squillo corre a firmare il contratto alla Roma dove sono finite le lacrime? dove sono finite quelle promesse? dove sono finite quelle parole che ha dato? questo è il livello di coerenza anzi di incoerenza di Claudio Ranieri ovvero coerenza zero assoluto incoerenza eterna e infinita praticamente alla faccia poi di chi cambia idea e segno di maturità la solita stronzata dimissioni? no ragazzi è una strategia mossa calcolata per salvare la faccia sapendo che nessun altro club sapendo che nessun altro club l'avrebbe probabilmente richiamato ed eccolo qui alla Roma a sperare di aggrapparsi forse ad una carriera dirigenziale sì perché spera che entrando alla Roma poi magari indipendentemente dal suo andamento che fallirà miseramente anche alla Roma ve lo metto proprio per iscritto con Napoli che è la prima partita con Napoli se è col Napoli prende la schiaffia a destra e a sinistra che ci ha avuto pure due settimane per prepararsi con ciò ed eccolo qui appunto sperando di aggrapparsi nella carriera dirigenziale un allenatore che alcuni hanno molto sopravvalutato e questa è la verità è che Claudio Ranieri è uno degli allenatori forse più sopravvalutati della storia del calcio ha vinto il massimo che è riuscito a fare vincere una Premier League con l'Anchester ma è una sorta di eccezione che conferma la regola una stagione irripetibile che tutti ricordano più per la favola dei giocatori che per le sue capacità tattiche non ha uno schema di gioco diciamo che Ranieri è poco più sopra di Allegri in termini di abilità tattica e oggi con la Roma cosa possiamo aspettarci? un altro fallimento annunciato un uomo che vive di ricordi brutti principalmente e cosa potete aspettarvi voi tifosi giallorossi? che vi potete aspettare? che vi potete aspettare da uno come Ranieri? un uomo che vive di ricordi finti e di una reputazione costruita su episodi fortuiti come ad esempio il caso del Cagliari la Roma non ha bisogno di un uomo incoerente e opportunista ma ha bisogno di un leader vero un qualcosa che Ranieri non sarà mai ha bisogno di un De Rossi non di un Ranieri conclusione amici questa è la realtà su Claudio Ranieri un uomo che si presenta come salvatore ma che alla fine dei conti lascia sempre le cose di peggio di come le ha trovate un uomo incoerente incapace di mantenere una promessa o una posizione se siete d'accordo con me fatemelo sapere sui commenti lasciate un bel like iscrivetevi al canale condividete questo video aiutatemi a portare avanti la verità perché solo insieme possiamo smascherare queste figure assurde che continuano ad ingannare il mondo del calcio continuate a sostenere il mio canale economicamente su Paypal e attraverso i benefici bancari per i tifosi Forza Roma non per me perché sono neutrale e Forza Roma lo dico anch'io anzi lo dico io e lo dico io anzi ragazzi lo dico io da non tifoso Forza Roma con De Rossi senza quell'incoerente di Ranieri ciao a tutti ragazzi